Comandante, tornerà operativa la sede della Capitaneria a Portovado? Quando è previsto il tutto? Tra un paio di mesi, attualmente stiamo sistemando l'ufficio per il maresciallo che andrà destinato lì, un paio di mesi, ritengo che un paio di mesi verso maggio, pensiamo di essere già operativi. Quali saranno le attività svolte di controllo in previsione che arrivi la prima nave per la piattaforma MERSC, giusto? Sì, assolutamente, ci prepariamo. In effetti il traffico lì è già significativo, è aumentato negli anni, l'ufficio è chiuso da una ventina d'anni, è stato istituito nel 1948, quindi verrà riattivato col traffico che abbiamo oggi, che è comunque importante, soprattutto quello di idrocarburi, ma comunque anche quello della frutta e di corsicaferri, ma in previsione dell'avvio della piattaforma all'inizio del 2018 ci stiamo preparando. Grazie.